Muoversi. Infomobilità in Campania. Napoli-Canosa e lo svincolo Castello del Lago in entrambe le direzioni. Sulla corda autostradale di Benevento, sino al 4 dicembre, attiva un restringimento di carreggiata tra le uscite San Giorgio del Zagno e Castel del Lago in direzione della 16 Napoli-Canosa. Dalla redazione Muoversi, Valeria Baldanza. Grazie a tutti.